Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Nel blog di oggi vi porterò con me in una giornata interamente dedicata allo studio, in cui quindi non dovrò lavorare, ma mi vedrete semplicemente studiare e fare poco altro. Premetto che raramente ho giornate di studio così lunghe, perché come sapete lavoro a tempo pieno, quindi mi sarebbe materialmente impossibile, e anche perché credo che non sia salutare passare le giornate esclusivamente a studiare nel lungo termine. Tuttavia, detto ciò, personalmente, per il mio stile di vita, in base ai miei impegni, è molto utile ogni tanto dedicare una giornata intera allo studio, in cui studio soltanto, mi concentro e non faccio quasi nient'altro, perché fare ciò mi permette di portarmi avanti con lo studio, e magari studiare quello che invece dovrei studiare nel weekend, quindi posso utilizzare il weekend per svago, per avere una vita sociale, per fare altre cose, e anche perché con i meriti del mio lavoro non sempre riesco a incastrare lo studio nelle giornate di lavoro. Cerco di farlo il più possibile, ma a volte ci sono degli imprevisti e quindi mi servono altre giornate per recuperare. E in questo vlog mi accompagnerete proprio in una di queste giornate. La quantità di lavoro che ho assegnato per questa giornata credo che mi porterà a studiare circa 12 ore, più o meno. Mi conosco, so più o meno quanto ci metto a portare a termine le diverse attività, e quindi questo è l'obiettivo che mi sono prefissata, diciamo non un obiettivo di tempo, ma un obiettivo di tasks che devo portare a termine. Vedremo effettivamente quanto riuscirò a studiare. Per entrare nello specifico di quello che studierò, devo dedicarmi ad un progetto abbastanza grosso di diritto amministrativo. Ci sono delle nuove norme che sono inerenti all'ambito del mio lavoro, quindi mi devo aggiornare in questo senso. Quindi devo studiare le norme nuove, seguire anche una breve lezione online, ma fare moltissime letture e studiare sul libro, e poi scrivere un elaborato finale che avrà un taglio molto pratico. Quindi avrò molte letture da fare, dovrò ricordarmi alcune cose, quindi per alcune cose farò Active Recall, altre cose invece mi serviranno per fare una rielaborazione ulteriore, e poi creare un documento che mi servirà per il mio lavoro. Quindi è uno studio molto pratico e in questo senso è uno studio molto intenso, perché non mi posso limitare a leggere in maniera distratta, ma mi devo concentrare molto su quello che faccio. E anche poi nel progetto di scrittura, nell'elaborato che andrò a scrivere, dovrò fare del mio meglio e quindi dovrò cercare di scrivere bene, scrivere in maniera coerente. E per tutti quelli che stanno scrivendo la tesi o hanno affrontato altri progetti di scrittura, sapete quanto è dura fare ciò. Ma a me comunque scrivere piace, quindi sono molto contenta di farlo. E durante la giornata avrò anche, penso nella prima mattinata, avrò una fase di brainstorming in cui cercherò di fare una lista di tutti gli argomenti su cui devo fare ricerca, in modo da avere una visione più completa del mio progetto e delle fondamenta del mio progetto. Spero che questo video vi motivi a studiare, soprattutto se anche voi avete delle giornate in cui dovete dedicarvi esclusivamente allo studio. Ricordatevi però di prendervi delle pause. Io non mi prendo delle pause durante la giornata, ma nei giorni successivi poi recupero e faccio altre cose. Quindi ricordatevi di avere una vita equilibrata. Non voglio assolutamente spingervi a studiare, studiare, studiare soltanto. Ricordatevi che esistono tantissime altre cose da fare nella vita e il nostro studio deve essere efficiente e produttivo proprio perché vogliamo massimizzare il tempo che passiamo sui libri in modo da poter fare altre cose. Pur sempre godendoci il tempo che passiamo sui libri, perché a me e credo anche a molti di voi studiare piace. Come sapete studierò principalmente senza pause. Penso che farò una pausa a caffè al mattino e poi una pausa a pranzo poi studierò pressoché per tutto il pomeriggio. E nel tardo pomeriggio farò anche una sessione intensiva di danese avanzato perché anche per il mio lavoro sto cercando di raggiungere il livello C1-C2. Sono già al C1, sto cercando di raggiungere il livello C2 in danese quindi ciò richiede un po' di studio e farò un po' di quello anche oggi. Quindi mi vedrete fare molte cose. Cercherò anche di fare una sessione di fitness a metà giornata. Ma ora passiamo al video. Mi sono alzata alle 5 e mezza in modo da poter iniziare la mattinata molto presto ed essere poi produttiva e sentirmi produttiva per tutto il giorno. Ho iniziato a buttare giù alcune idee, a fare brainstorming per il mio progetto di scrittura per il mio elaborato per poi dedicarmi a molta ricerca online in diversi siti e database in modo da poter dare supporto a tutte le mie argomentazioni. Grazie a tutti. Ho poi svolto alcune letture sul libro per riuscire a costruire meglio le mie argomentazioni ed assicurarmi che fossero soli dei coerenti. Alle 7.45 dopo aver studiato per due ore bevo il mio primo caffè. Non lo bevo appena in alzata perché so che altrimenti a metà mattinata ho bisogno di un altro caffè e cerco in ogni caso di ridurre il numero dei caffè che bevo. Alle 8.00 ho iniziato a leggere alcuni capitoli di un altro libro che mi serve per la stesura dell'elaborazione, sto facendo degli schemi ma non si tratta di schemi volti a ricordare tutto quello che c'è scritto sul libro ma semplicemente volti ad identificare e catalogare tutte le informazioni che mi servono. Quindi devo fare una lettura molto attenta proprio per non lasciarmi sfuggire nessuna informazione importante. Ho seguito poi la lezione online durante la quale sono state fornite le conoscenze base per la relazione dell'elaborato sulle quali poi noi studenti dobbiamo costruire un impianto di ricerca e argomentazioni. La lezione è durata soltanto un'ora ed è stata molto densa di informazioni, utile e interessante. Subito dopo la lezione ho dovuto sostenere un test nel quale venivano poste domande sul contenuto della lezione stessa e quindi è stata una buona occasione per fare active recall di quello che avevo appena imparato. E poi ho fatto un po' di outline, quindi ho cercato di preparare l'indice del mio elaborato. Pronta per andare a correre? Cioè con la giacca ancora perché fa molto freddo. Cioè con la giacca di ricerca. Mi piace molto andare a correre in città nella pausa pranzo perché in questo periodo ci sono pochissime persone in giro e quindi si può correre agevolmente. E poi ho potuto ammirare tutti i canali di Copenhagen ghiacciati e fermarmi a fare qualche fotografia anche se mi si congelavano le mani. la giacca di ricerca. Ci rienne per fare anche la giacca di ricerca. Bela meraviglia. Cioè con la grossa viene con la giacca di ricerca. Tornata a casa ho fatto 15-20 minuti di esercizi di pilates e un po' di yoga e poi ho mangiato quello che avevo già preparato la sera prima in modo da essere il più efficiente possibile e dopo una doccia veloce ad essermi cambiata ero pronta per ricominciare a studiare. Ho poi iniziato le 150 pagine di letture che avevo sull'iPad e mentre leggevo ho preso alcuni appunti relativi al mio elaborato ed inserito alcune note e commenti sull'iPad in modo da poter ritrovare le informazioni più agevolmente dopo quando avrei dovuto iniziare a scrivere. Qui ho preso un attimo il computer del lavoro per rispondere a una mail e anche per recuperare del materiale che avevo su quel computer lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ce la facevo più a lavorare da seduta, a studiare la seduta e quindi ho pensato di costruirmi una standing workstation come quella che ho in ufficio. In realtà in ufficio qua a Copenhagen la scrivania si può alzare in modo da poter lavorare da in piedi sostanzialmente e quindi ho utilizzato questo mobiletto qui, questo sgabello dell'IKEA o scaletta per costruirmi una standing workstation e adesso finalmente potrò ricominciare a lavorare da in piedi che, almeno secondo quello che dicono qua a Copenhagen, fa molto meglio alla schiena rispetto a stare seduti. Ho continuato a leggere e pensare a quello che leggevo in relazione al mio elaborato e a prendere appunti per molte ore nel pomeriggio. Finita la lettura ho iniziato a scrivere la prima bozza della prima sezione dell'elaborato. COMO 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 Alle 5 e mezza dopo 4 ore di studio molto intenso ho preparato un caffè con la pressa, l'ho messo in un termos e ho fatto due passi con il mio fidanzato bevendo il caffè e ammirando il tramonto. Dalle 18 alle 20 ho poi partecipato alla mia sessione settimanale di danese avanzato, avevo preparato alcune letture per questa sessione qualche giorno prima e le ho discusse in danese, ho esposto parte dei capitoli che erano stati assegnati e poi dopo mi sono dedicata alla grammatica e alla space repetition di alcuni vocaboli e verbi che avevo studiato. secondo la mia space repetition routine. Per evitare di dover ancora cucinare e lavare i piatti dopo una giornata così lunga e impegnativa, io e il mio fidanzato abbiamo deciso di prendere un po' di cibo take away da un ristorantino libanese anche per supportare i piccoli business che hanno problemi a sopravvivere in questo periodo. Dopo cena e dopo un po' di relax, poiché mi dava fastidio lasciare parte delle letture relativi al corso incompiute, mi sono dedicata ancora un po' alla lettura e a prendere appunti da queste slide e questi capitoli in modo da finire tutto il programma del corso per la giornata, poter andare a dormire tranquilla e riposarmi per il giorno successivo, nel quale sicuramente non avrei studiato 12 ore. Sono molto soddisfatta della mia giornata di studio. In totale alla fine ho studiato 13 ore pulite, escludendo tutte le pause, quindi sono molto contenta e soprattutto sono contenta perché ho finito tutto, perché non è una questione di tempo quanto una questione di attività svolte e non ho finito tutto il progetto, avrò ancora altre giornate per finalizzare l'elaborato, ma comunque oggi ho portato a termine tutte le attività che avevo assegnato per questa giornata. Anche la sessione di danese è stata piuttosto buona. Se avete bisogno di qualche consiglio in più sul metodo di studio andate a guardare il video che è uscito giovedì scorso e tutta la playlist con i video sul metodo di studio. Ci sono anche tantissimi altri vlog sul canale, continuerò a pubblicarli ogni domenica. Ricordatevi di seguirmi su Instagram dove vedete un po' in tempo reale quanto tempo dedico allo studio, alla lettura e al lavoro. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete mi piace, lasciate un commento. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video. Io vi auguro una buona domenica e ci vediamo nel prossimo video.